Le residenze dei Cantelmo, complesso di nuova costruzione nel cuore del centralissimo quartiere di Casetta Mattei, è un'esclusiva realizzazione immobiliare che rappresenta una rarissima possibilità di acquisto di nuove abitazioni all'interno della capitale. Completamente immerso nel verde, il complesso è composto da parazzini a tre piani più attico, in cortina molto signorili. Gli appartamenti, disponibili in ogni soluzione, potranno soddisfare qualsiasi genza abitativa. L'immobile è sito in via Pietropozzi ed è ben collegato al centro da una rete capillare di trasporti pubblici. Gli appartamenti, disponibili in ogni soluzione, potranno soddisfare qualsiasi genza abitazioni all'interno della capitale. Gli appartamenti, disponibili in ogni soluzione, potranno soddisfare qualsiasi genza abitazioni all'interno della capitale.